Allora Kairos praticamente è un'azienda che fa corsi di tutti i tipi e io qui mi sto occupando sono in un ufficio di amministrazione e mi sto occupando un po' di tutto da un po' la contabilità ho organizzato degli eventi che sono stati dei seminari poi mi sono occupata di tenere in ordine il loro database insomma e dopo mi sono occupata di varie cose quindi ho dato una mano a loro a creare dei grafici poi sto continuando a mantenere il mio percorso sempre sulla contabilità visto che c'è anche l'altra parte che si occupa della progettazione di tutti questi progetti ho imparato un po' di cose quindi sarebbe bello approfondire questa parte e poi continuare sempre nel mio campo della contabilità e mi aspettavo questo tipo di esperienza in questo campo però devo dire che ho imparato anche molte cose perché non le sapevo adesso insomma mi sono fatta un'idea un po' più chiara su tutte le cose personalmente ha aiutato a amplificare i miei orizzonti a rendermi più consapevole di quello che c'è oltre a quello che sapevo già e quindi devo dire sì cioè a me ha aiutato non so come può aiutare tutto il paese però a me personalmente sì grazie a tutti